E' difficile educare alla felicità? Beh, guardate, l'educazione, che come diceva San Giovanni Bosco, è arte del cuore, è sempre qualcosa di impegnativo. Però, educarsi ed educare presuppone sempre un impegno, dei sacrifici, una collaborazione attiva, presuppone sempre, come dire, anche delle fatiche, ma queste fatiche vengono affrontate e vengono ripagate quando c'è una passione, la passione educativa. E' educare alla felicità, soprattutto nel mondo di oggi, diventa molto facile. Perché, non perché o soltanto poche cose, dico io, ci spingono all'infelicità, no, ma perché ci vogliono propinare, ci propinano una falsa felicità. Perché, vedete, quando io so cosa è l'infelicità, è chiaro, ma quando io penso di sapere cosa sia, o penso addirittura di essere felice, ma di fatti non lo sono, perché sono vittima di una illusione, e questo è molto più faticoso. E' faticoso anche perché oggi dire alla gente che essere felici vuol dire, tra virgolette, morire a se stessi, donarsi agli altri, e questo, in un mondo dove invece tutti dicono vivere per se stessi e dimenticarsi degli altri, è certo che diventa impegnativo. Allora, educare alla felicità. E abbiamo sentito come un grande Roberto Benigni, ieri, rileggendo una sua affermazione forte, fatta durante il programma RAI, i Dieci Comandamenti, nel dicembre 2014, come Benigni ci invitava a andare dentro di noi, a rovistare dentro di noi, a togliere, lui dice, tutti i comodini, tutto ciò che abbiamo dentro, per trovare la felicità, perché la felicità ce l'abbiamo, ce l'abbiamo tutti, anche quelli che in questo momento dicono che non sono felici, la felicità c'è dentro, perché ce l'hanno regalata, così per usare le stesse parole del maestro Benigni, ce l'hanno regalata, ce l'abbiamo dentro. Adesso certamente i credenti dicono che la felicità ce la dona a Dio, che è dentro il nostro DNA, fatti a immagine e somiglianza di Dio, ma anche i non credenti hanno diritto ad essere felici, perché Cristo, perché il Signore, perché Dio ha creato l'uomo. Poi ognuno di noi ha scelto di essere credente, non credente, diversamente credente, ma dentro ad ogni uomo Dio ci ha messo la felicità. E ci sono, grazie a Dio, tanti diversamente credenti, tanti non credenti, felici, perché vivono, pur senza, come dire, saperlo, oppure sapendolo, ma non collegandolo al Vangelo, vivono l'amore, vivono il dono di sé, vivono il dono di sé. E voglio ripetere quello che ieri abbiamo letto nell'ultima parte della riflessione di Roberto Benigni. Non bisogna mai aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Ecco, un'altra parola che ci deve aprire gli orizzonti sulla felicità e sul nostro educare, ed educarci alla felicità. Vivere davvero. Molti di noi non viviamo, ma sopravviviamo. Vivere davvero vuol dire vivere nel dolore con la speranza. Vivere davvero vuol dire uscire ogni giorno da se stessi. Vivere davvero vuol dire avere sempre, ma sempre, la voglia di donarsi. E poi vivere davvero molte volte non significa cose difficili, ma anche semplici. Tempo fa, in una panetteria di Ischia, sono entrato e sono stato accolto in una maniera semplice, ma gioiosa e con un sorriso stupendo di un giovane che lavorava lì. E mentre parlavo con lui, con un occhio ho letto una frase messa proprio lì, all'ingresso. Un giorno senza sorriso e un giorno perso. Ci vediamo domani, Parli Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!